Presidente, un consiglio provinciale importante è quello di oggi, a cominciare da quello che è la problematica della rete stradale. Cosa avete in mente di fare? Soprattutto questi fondi ci sono o verranno utilizzati? Sì, i fondi ci sono e abbiamo il dovere, l'obbligo verso i nostri concittadini di utilizzarli. Ecco perché io mi auguro che questa mattina il consiglio provinciale possa advenire ad una determinazione definitiva approvando l'elenco delle strade da interessare a manutenzione. Diciamo che la cosa è stata concertata con i territori, in primis con i sindaci dei comuni interessati che hanno fatto un buon lavoro. Oggi il consiglio provinciale dovrebbe mettere timbro e firma rispetto a questa attività. Credo che ci siano tutti i presupposti per arrivare ad una elencazione che poi dovrà essere mandata a progettazione esecutiva e quindi ad appalto. Tra i vari punti all'ordine del giorno c'è la questione del famoso casello autostradale Foggia in Coronata. A che punto siamo? Dopo i vari colpa mia e colpa tua ci si arriva finalmente a una definizione, a un'apertura? La colpa non è di nessuno. Io da questo punto di vista mi sforzo per il possibile di dire sempre quello che penso e di dire la verità dal mio punto di vista. La colpa è di chi in precedenza non ha fatto bene le carte. Adesso però c'è un'esigenza del territorio, il consiglio provinciale questa mattina è chiamato a valutarla. C'è una proposta, la valuteremo. Laddove dovessero venire fuori altre idee, c'è la possibilità assolutamente di emendare questa proposta e di arrivare a una deliberazione che io mi auguro possa essere assentito dal maggior numero di consiglieri provinciali. Grazie.